Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi faremo i preferiti del mese di dicembre, so che sono in ritardissimo, però sono stata un po' male e sto ancora un po' male, probabilmente si vedrà dalla mia bellissima faccia, però non volevo non fare questo video, visto che comunque mi piace farli. Ma partiamo subito con il primo preferito del mese, cioè i libri del mese. Questo mese ve ne mostrerò ben due, una è una graphic novel e uno è un libro. Allora, cominciamo con la graphic novel. L'ho letta all'inizio del mese, ne ho anche fatto un post su Instagram che vi lascio linkato in descrizione se volete andare a sbirciare, ed è Storie brevi e senza pietà di Taddei Angelini, edito da Panini Novelle. Allora, ah sì, al prezzo di 15 euro. Allora, questa è una raccolta di piccoli racconti che hanno più o meno tutti come tema principale la morte e lo sdrammatizzare della morte. È molto divertente, ha un umorismo un po' particolare, non fa per tutti assolutamente, e se avete un umorismo molto poco politicamente corretto, fa per voi. Ed è stata veramente una bella, bella lettura. L'ho preso al Luca Comics di quest'anno e l'ho preso completamente a scatola chiusa, non ne avevo mai sentito parlare. Mi ha attirato il titolo, che mi ricordava le storie brevi che finiscono malissimo di Sio, e anche il disegno in copertina della morte con questa falce. Ho letto la frase che c'è sul retrocompertina, cioè verrà un giorno in cui ti accorgerai che la vera storia breve senza pietà è quella della tua vita, e mi ci sono rivista un sacco, perciò l'ho preso completamente a scatola chiusa, ma ne è valsa la pena. E la mia storia preferita è l'ultima, appunto, dove c'è un giornalista che intervista la morte e la morte parla del suo lavoro, come se fosse un'espressione artistica. Io ve lo consiglio se avete, appunto, un umorismo un po' diverso dal solito, insomma. Il libro, invece, che ho letto con moltissimo piacere è Il Vilevillaggio, il settimo libro della saga di una serie di sfortunati eventi, scritta da Lemony Sneaket. Sì, è un libro per ragazzi, quindi, vabbè, io lo leggo in età adulta, ma perché non ne avevo sentito mai parlare fino a due anni fa, perché ora siamo nel 2018, quindi ne ho sentito parlare nel 2016, perché Netflix aveva annunciato di star facendo una serie tv, appunto, basata su questa serie di libri. E una mia amica, Camilla, come al solito, è sempre lei che mi aggiorna su queste cose, mi ha detto che era una serie di libri molto bella, veramente molto molto bella, e quindi ho detto, vabbè, prima di vedere la serie, perché non leggerli. Perciò ho letto i primi quattro libri, ancora l'anno scorso, inizio anno, prima di vedere la serie tv, ed è spaziale la serie tv, e anche se mi sono fatta probabilmente un sacco di spoiler rispetto ai libri, perché nella serie si vede subito la sottotrama, invece nei libri no. Infatti, tra il settimo e ora sto leggendo l'ottavo, si comincia ad intravedere un pochino che c'è qualcos'altro, oltre appunto solo i fratelli Baudelaire e i loro sfortunati eventi. Però è stata una bella lettura, certo, i libri sono molto semplici e sono anche molto corti, sono più o meno tutti sotto le 250 pagine, quindi si leggono relativamente velocemente. In più, sono libri per ragazzi, perciò non sono neanche così impegnativi di scrittura, ma la storia è molto bella e sono molto molto carine tutte le disavventure che accadono a questi fratelli. Certo, non credo nemmeno questa che sia una serie un po' per tutti, perché non è la classica fiaba a lieto fine, anzi, c'è sempre qualcosa che succede, che rovina tutti i piani. E diciamo che è veramente una bella lettura, se avete voglia di staccare magari, come io in questo periodo ho visto che ho degli esami imminenti, vi consiglio di magari buttarci un occhio, non ve ne pentirete. Ora passiamo alla serie tv del mese. Allora, questo mese non ho iniziato nulla di nuovo, cioè il mese scorso non ho iniziato nulla di nuovo, non ho guardato cose nuove. Ho fatto un rewatch di Castle, che se non lo conoscete comunque vi lascio la locandina qui, o magari un trailer o qualcosa che trovo in internet. È una serie tv poliziesca che appunto si suddivide in otto stagioni, ed ha episodi stand alone, ma ha anche una sottostoria, una sottotrama, che va avanti per tutte le stagioni, quindi è interessante anche per quello. Infatti adesso mi sono un pochino più concentrata sugli episodi dove va avanti la sottotrama, anche perché se no non finirei mai di guardarla, visto che sono otto stagioni da 23-24 episodi l'una. Sono piuttosto tanti e piuttosto impegnativa anche da guardare. Ma visto che comunque l'avevo già vista, ed è una serie che mi piace molto, ho detto vabbè dai, riguardiamo queste così almeno se mi perdo cinque minuti, so già che cosa succede, non mi perdo chissà che cosa. E come ho già detto è una serie poliziesca, dove appunto i personaggi principali sono un detective della polizia, una detective della polizia, Kate Beckett, e uno scrittore di romanzi gialli, Richard Castle. Molto bella, ve la consiglio anche perché non è tipo CSI o tutte quelle serie dove usano super metodi per scovare i cattivi. Oh mio Dio, ho trovato qualcosa e quindi scopro chi è dal dente di sua nonna, non lo so. Non cose del genere, molto più terra-terra, infatti prendono anche abbastanza in giro tutte le altre serie poliziesche. Però è simpatico, insomma, e il protagonista, Richard Castle, è molto nerd, perciò è semplice immedesimarsi in lui. Ho visto anche un'altra serie, assieme al mio ragazzo, però questa non da sola, che è Scrubs, che è la mia serie tv preferita in assoluto. Abbiamo deciso di riguardarla assieme perché a tutti e due piace un sacco e Scrubs è il must di tutte le serie tv e di tutti gli amanti di serie tv. Se non avete mai visto Scrubs, non siete dei veri amanti di serie tv perché Scrubs è il capostipite, cioè non c'è niente di fatto meglio di Scrubs. Guardatelo perché è bellissimo e dovete conoscerlo, se non lo conoscete siete bruttissime persone. Ora passiamo al film preferito del mese. Non sono riuscita mai ad andare al cinema, sia per lezioni, sia perché anche nel mese di dicembre non sono stata granché bene, ma come ogni anno e come ogni Natale, a casa mia abbiamo guardato Brian di Nazareth, che è il film di Natale per Antonovasia a casa mia. visto che è proprio diventata una tradizione la sera di Natale, dopo aver salutato tutti i parenti e dopo essere sfuggiti dalle grinchie di tutti i parenti, io, mio papà e mia mamma ci sediamo sul divano e guardiamo Brian di Nazareth. Allora, è un film di Monty Python, credo di avervene già parlato, mi sembra nel preferito di novembre, perché l'avevo visto assieme al mio ragazzo, ma questo mese per me Brian di Nazareth è proprio... è stato proprio una chicca, perché guardarlo assieme ai miei genitori, che sono anche le persone che me l'hanno fatto vedere per primi, è una cosa che mi fa stare molto bene, insomma, ed è una tradizione appunto della mia famiglia. Se non avete visto appunto il video dei preferiti di novembre, dove ve ne parlo un pochino meglio, ve lo lascio nell'info box e vi lascio anche magari il trailer e la lezione di latino nell'info box, perché sono... veramente... è un film esilarante ed è dei Monty Python, quindi... cioè... amore puro per me, almeno. E basta, non ho visto granché altri film, in realtà è stato un mese un po' fiacco nel reparto film, però vabbè, magari recupererò nei prossimi mesi, visto che ora c'è la sessione, non ho la possibilità di andare al cinema. Sad. Bene, allora, ora passiamo alla musica del mese, anche se non c'è un granché di musica, visto che ho ascoltato sempre le stesse cose. L'unica cosa in più che ho ascoltato durante dicembre è stato un disco che si chiama La Band Urrenault, non so se lo pronuncio correttamente, anche perché è francese, e io il francese non lo so, però è un disco fatto da un sacco di artisti francesi che hanno appunto fatto delle collaborazioni, per nostra sfortuna c'è anche Carla Bruni lì dentro, però vabbè, suona bene la chitarra, quindi perché no? Ed è un bel disco, è un bel ascolto, insomma, quando sono un po' giù, oppure soprattutto nei periodi freddi, mi piace ascoltarlo, perché ha un bel sound, e soprattutto è in francese, e io il francese non lo capisco, perciò posso tranquillamente usare quella musica per studiare senza perdermi a canticchiare. Vi lascio comunque il link a Spotify, così nel caso vi possa interessare potrete andare ad ascoltarvela. Ora passiamo alla categoria random del mese. Allora, non ho nulla di materiale da mostrarvi, perché non è stato un mese di cose materiali, ma è stato un mese di gite fuori porta e di eventi e mostre alle quali sono stata. Iniziavo dall'inizio del mese. Allora, io e il mio ragazzo, studiando qui a Padova, abbiamo approfittato di una mostra che si sta tenendo in un palazzo vicino al Duomo di Padova, che è su Galileo. Visto che per gli studenti dell'Università di Padova costava solo 2 euro, abbiamo approfittato, appunto, come non approfittare, quando una cosa costa poco ed è bella perché non andarci. È una mostra che ripercorre un pochino tutte le fasi inventive e tutte le fasi della vita di Galileo Galilei, comprese appunto quando ha studiato qui a Padova, quando ha dovuto abbiurare e il tutto è contornato da sia strumenti che usava lui, sia coevi dell'epoca, quindi altri studiosi, altri strumenti che usavano i suoi coevi, le varie teorie che c'erano in quel periodo, quindi tipo le teorie di Galileo con il sole al centro e i pianeti che ci girano attorno, le altre teorie. Quel tizio strano e matto, che non mi ricordo come si chiama, che pensava che tipo il sole, i pianeti girassero attorno al sole, ma tutti quanti girassero attorno alla Terra. Non mi ricordo come si chiama quel tipo, però è tipo la teoria per mettere d'accordo tutti. Poi ci sono diversi quadri che rappresentano appunto il fatto che Galileo sia stato costretto ad abbiurare, ci sono, mi sembra, delle copie dei suoi libri, delle copie dei suoi scritti, e poi ci sono appunto degli strumenti che Galileo effettivamente ha usato, che sono conservati qui al Museo della Fisica di Padova, e anche quello credo che andrò a vederlo, magari se scopro quando è aperto. Ci sono anche gli acquerelli di Galileo che ha dipinto guardando la luna, cioè lui guardava la luna e dipingeva questi acquerelli che rappresentavano le fasi lunari. È una mostra veramente interessante, e se capitate per Padova, fino a marzo mi sembra sia attiva. È una bella mostra, curata e tenuta molto bene, ci sono anche le viste guidate, e cosa molto fondamentale, l'audioguida era gratuita, compresa il prezzo del biglietto. Quindi, anche se, per esempio, io non capisco niente di fisica, non capisco niente di tantissime cose, quella vioguida è stata fondamentale per farmi capire che cosa effettivamente stavo guardando. Perciò, super approvata. Sempre all'inizio del mese, il weekend dell'otto, sono andata in Toscana con i miei genitori, perché abbiamo degli amici, insomma, toscani, e abbiamo fatto un giro a Pisa, e un giro sulle colline pisane, dove appunto loro hanno la casa in campagna, e tutto quanto dove fanno l'olio, e mi sono divertita veramente molto. E in più, in quel bellissimo, in quella bellissima casa di campagna che hanno, c'erano dei gattini, e io vado matta per i gattini, cioè, sono impazzita, e ho coccolato gattini per più o meno un'ora. Avevo bisogno di coccolare gattini, anche perché qui a Padova non ho un gattino, c'ero solo sua casa, dai miei, e perciò mi manca avere un gattino da coccolare, ogni volta che ne trovo uno e posso coccolarlo, lo approfitto, insomma, sono fuori di testa. Però è stata una bella gita, anche se non abbiamo avuto la possibilità, diciamo, di visitare Pisa per bene, in primis perché diluviava, sempre i soliti fortunati, e in più anche perché ci siamo fermati solo due giorni, quindi sì, che cosa vuoi vedere in due giorni? Niente. Però è stato un bel weekend, e spero di tornare presto a Pisa, perché non mi ricordavo fosse così bella, visto che c'ero andata quando ero alta, più o meno come questa serie, forse anche meno, avevo sei anni, chi si ricorda qualcosa di quando si aveva sei anni? Io no, perché non ho memoria. Poi, sempre nel mese di dicembre, un'altra cosa che mi è piaciuta molto fare, è sempre grazie all'Università di Padova, siano lodati. Abbiamo avuto la possibilità di visitare il Museo della Paleontologia e della Geologia, quindi c'erano fossili, c'erano pietre, c'erano cose, cose che a me piacciono. È stato molto carino anche perché era, siccome è un museo sempre chiuso, è aperto solo appunto in occasioni speciali, è stato molto interessante, visto che avevamo un ragazzo laureato in geologia che ci faceva da guida, e è stato molto bello anche capire le differenze tra i fossili, guardare i fossili, vedere gli scheletri dei dinosauri e cose, insomma, è stato molto bello, soprattutto perché è una delle mie passioni fin da quando ero bambina, infatti quando ero piccola avevo l'ossessione per i dinosauri e per i fossili, e infatti i miei genitori, sapendolo, mi regalavano un sacco di libri su queste cose, e io ero follemente innamorata di quelle cose, non so perché non sono andata a studiarle, ho fatto tutt'altro, ma vabbè, errori, errori di vita. Comunque, anche quello, se vi capita di venire a Padova, oppure siete studenti dell'Università di Padova, state attenti all'email che ogni tanto mandano delle mail riguardo a queste visite guidate nei musei dell'Università, perché grosso problema, secondo me, è appunto che questi musei non sono aperti al pubblico, ma sono aperti solo agli studiosi e solo agli studenti di quell'ambito, e fanno queste aperture straordinarie e solo ogni, veramente tantissimo. Però il ragazzo diceva che probabilmente presto, forse, faranno, lo apriranno anche al pubblico, e sarebbe una gran cosa, perché è veramente un gran bel museo. Poi, l'ultima gita che ho fatto è stata a fine mese, con i miei genitori e sempre il mio ragazzo, visto che comunque non abitiamo così tanto distanti, nemmeno quando torniamo a casa dell'Università, siamo andati sul Carso, che se non sapete che cos'è, è una zona del Friuli-Venezia-Giulia, molto vicino alla Slovenia, e abbiamo fatto un giro delle cantine, siamo andati a mangiare a Gorizia, e come ogni Natale, come ogni vacanza di Natale, più o meno verso la fine dell'anno, facciamo questo giro, perché i miei genitori sono un sacco appassionati di vini, e anch'io, anch'io sono molto appassionata di vini, però è una tradizione anche quella di famiglia, che ogni anno facciamo, ogni anno decidiamo di farci un giro in queste zone, per prendere del vino, del vino particolare, insomma, perché lì fanno appunto delle qualità di vino che non si trovano da altre parti, perché hanno questo terreno molto particolare, poi siamo andati da un produttore che faceva il vino nelle anfore, come tantissimi anni fa, e le anfore gli arrivano dalla Georgia, quindi, cioè, molto molto particolare, molto bello, se riesco, vi metto un paio di foto qui, perché è veramente particolarissimo, io non avevo mai visto una cosa del genere, ed è stata anche quella una bella giornata, una bella gita, e sono molto contenta di farlo più o meno tutti gli anni con i miei genitori, anche perché è un momento che passiamo assieme e ci divertiamo assieme, insomma. E basta, diciamo che come preferiti random ho finito, sì, perché non ho, non ho altre cose, in realtà, di preferiti random, se non la mia gattina, come sempre, lei è un preferito di ogni mese, la mia gattina. Bene, dopo questo ultimo sclero, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, e mi dispiace se sono sembrata un po' meno sprint del solito, ma non sto molto bene. Io vi mando un bacione enorme, un abbraccione fortissimo, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate con quali sono stati i vostri preferiti del mese, che cosa vi è piaciuto dei miei preferiti, che cosa vorreste fare, se vi ho ispirato in qualche modo. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!